In questo Team Radio siamo in compagnia del mitico Iceman, Kimi Raikkonen, che durante la gara commette l'unico errore di una prestazione fantastica da parte sua. Durante la gara il regime di safety car attraversa all'ultimo la linea di corsia d'entrata della pit lane, azione notata dai commissari, che sanzionano con 5 secondi di penalità il finlandese. Ascoltiamo la comunicazione del suo povero ingegnere. Team Radio davvero esilarante. Oltre a farci sempre divertire con le sue reazioni alla radio, Kimi secondo me è ancora uno dei piloti più forti presenti in griglia. La sua alfa riesce a fare prestazioni incredibili che altri possono solo immaginare.